Nome. Leslie Irving. Soprannome. Il cane pazzo. Numero vittime. 6 accertate. Modus operendi. Arma da fuoco. Leslie Irving è nato il 2 aprile 1924 nello stato dell'Indiana, Stati Uniti. Non si sa praticamente nulla della sua adolescenza, se non che divenne noto alle forze dell'ordine per essere un ladro fin da minorenne. Fu, infatti, arrestato molteplici volte per furto con scasso, e nel 1945 per rapina a mano armata. Leslie si rivelò essere uno spietato assassino seriale a partire dal 1954. Entrava in abitazioni private, e negozi, con lo scopo di rapinare chi vi era all'interno. Ma non si limitava a portare via denaro. Leslie non lasciava testimoni. Era uno psicopatico che uccideva tutti a sangue freddo. Era molto probabile che il movente non era di per sé la rapina, ma l'eccitamento nel vedere le vittime terrorizzate, nell'avere il controllo la loro vita, e nell'ucciderli a sangue freddo, senza fare distinzioni di sesso o di età. Il panico che scatenò nello stato dell'Indiana, tra il 2 dicembre 1954 e il 28 marzo 1955, era impressionante. La popolazione si chiudeva in casa, chiudevano i loro negozi, ci fu una corsa per l'acquisto di armi, per potersi eventualmente difendere. Numerosi uomini delle forze dell'ordine, detective, perfino le FBI, erano a caccia di quest'uomo, di cui si aveva solo un disegno, il quale era appeso in tutti i pali, e i muri di numerose città. Come detto prima, la follia omicida iniziò il 2 dicembre 1954. Mary Holland, 33 anni, incinta di tre mesi, si trovava a lavoro, nel suo negozio di liquori, quando entrò l'assassino. La ragazza, sotto minaccia della pistola, consegnò il denaro a Leslie, e scappò in bagno per nascondersi. Ma l'assassino la raggiunse, e le sparò un colpo di pistola alla tempia. 23 dicembre 1954. Wesley Kerr, 29 anni, un veterano di guerra, si trovava nel suo negozio, stava parlando al telefono con la moglie per programmare le vacanze natalizie con lei, e i loro bambini. Appena terminata la chiamata, entrò l'uomo che gli cambiò tutti i suoi piani. Il killer si fece aprire la cassa, e mentre Wesley di schiena per inserire il codice, fu ucciso da un colpo di pistola alla nuca. Leslie portò via solo pochi spiccioli. Wesley, che sopravvisse a due guerre mondiali, morì per mano di uno squilibrato. 21 marzo 1955. Il figlio di sette anni di Wilhelmina Seiler, 47 anni, era appena tornato da scuola. Chiuse la porta, si voltò, e vide il corpo di sua mamma a terra, nel salotto, con gli occhi sbarrati, e una pozza di sangue che le usciva dalla fronte. A pochi metri, la sua borsa aperta, è vuota. Un trauma che difficilmente sarà passato al povero bambino. Nell'Indiana scoppiò il panico. È proprio dopo questo ennesimo omicidio che intervenne anche l'FBI. Gli investigatori erano sicuri dell'ipotesi di un collegamento tra gli omicidi. E, dunque, della presenza di un serial killer. 28 marzo 1955. Entrò in casa di Goebel Duncan, 51 anni. Con lui vi era la moglie, Mamie, il figlio, Raymond Duncan, 29 anni, la moglie di suo fratello, Maple Elizabeth Duncan, 20 anni, e il suo figlioletto di due anni. Il killer iniziò a sparare senza pietà. Uccise Goebel, il figlio Raymond, ed Elizabeth. Il bimbo fu risparmiato, in quanto non poteva fare da testimone. Oltre a lui, riuscì a sopravvivere anche la moglie di Goebel. Rimanendo, però, cieca. La fortuna del serial killer aveva i giorni contati. C'erano testimoni che videro un'auto sconosciuta fuori casa della famiglia Duncan. Ciò aiutò molto gli investigatori, i quali lo collocarono come primo sospettato, e scoprirono il suo passato di rapinatore seriale. Individuato, fu arrestato l'8 aprile 1955. Trovarono nella sua auto, le armi e il bottino dell'ultimo colpo. Fu presto collegato anche agli altri sei omicidi, e nel giro di pochi giorni, apparve a processo. Era stato portato in aula con una catena al collo, come un guinzaglio. Motivo per il quale fu soprannominato, il cane pazzo. Considerato un assassino cinico, spietato, immorale, fu inizialmente condannato a morte, poi si decise per l'ergastolo. Quando, finalmente, la popolazione riuscì a tirare un sospiro di sollievo, il 20 gennaio 1956, dovettero leggere sui notiziari che Leslie era evaso. Fu catturato il 9 febbraio 1956, in California. Era riuscito a compiere qualche rapina nel frattempo. La comunità, ancora sconvolta, poteva piano piano ritrovare un po' di pace, e le famiglie delle vittime piangere i loro cari. Finalmente era stata fatta giustizia. Il killer morì per cancro ai polmoni il 9 novembre 1983.